Rieccomi qua, oggi a Milano splende il sole, il cielo è azzurro come potete vedere alle mie spalle, sgombro di nubi o quasi, qualche nuvoletta stupida. Oggi stesso comincerò i lavori alla mansarda, voglio fare delle doghe, e voglio riuscire a canalizzare con un tubo l'aria che arriva dalla truma sopra in alto sulla dinetta, voglio riuscire a farlo, non so se usare una canalina quadra, magari in un materiale anche metallico, che magari mi fa da un tubo quadro metallico, farlo passare in un punto, fatto in qualche maniera, devo riuscire assolutamente a canalizzare l'aria calda della truma che mi arriva sotto la dinetta, dove ho il serbatoio dell'acqua pulita, e farla girare intorno al letto. Ho visto che molti camper nuovi hanno delle canalizzazioni simili, che tirano via l'umidità di cui purtroppo i mansardati soffrono. Penso di poterci riuscire, perché è un lavoro abbastanza teoricamente facile, poi bisognerà vedere come andrà. Ciao ragazzi, un bacione, ciao!